25 anni alle canarie, otto governi, lo spagnolo è diventato la mia prima lingua, ho 50 anni, se pensassi nella pensione la riceverei dalla Spagna, invece sono Chantal Montaldo e la mia generazione è X. Siamo la prima e unica che sta realizzando i sogni di tutte le anteriori. Se fossi di nuovo giovane, ma con l'esperienza di adesso, molte cose cambierebbero. Stai pensando in venire a Fortaventura. Ne hai sentite tante, vero? Vieni in vacanza? Vuoi investire? Desidera trasferirti? Magari aprire un cerchietto nella playa? Tutto va pianificato dal tuo punto di vista. Perché è unico? Perché sei una persona unica e hai bisogno di soluzioni uniche. Questo ti offriamo nelle sessioni strategiche di Coraleco Info. Siamo una squadra di persone con esperienza in diversi ambiti. qui, sull'isola, in questo momento. Formiamo la tua rete di contatti basata su intercambi funzionali. In una sola sessione farai fruttare il tuo tempo, il tuo impegno e le tue risorse. Risolviamo un momento di indecisione senza commissioni o percentuali. Sarai sempre tu a prendere le decisioni, gestirai le informazioni e sceglierai le direzioni. Sei generazione X anche tu? Lo sai che sei mutante? Ti invito a scoprire il tuo potere con noi qui in Fortaventura. Grazie a tutti.